Il 9 a una parte, il 10 per l'altra, lo vedete l'applauso di un Franchi che va a gremirsi sempre di più Buonasera intanto da Marco Contelli, saluto al campanile Luca Calamai, ciao Luca Buonasera a tutti Una serata molto importante come diceva Giulio Pase, noto regista Per poco poi andiamo a scoprire i vari personaggi, Damiano Tommasi, Luca Toni e Antonio Di Natale Questa è la formazione dell'Italia che gioca contro il resto del mondo Mentre Gabriele Omar Bacistuja si abbraccia dal sindaco di Firenze, Dario Mandela, Giancarlo Antonioni Tra poco diciamo anche la formazione del resto del mondo Che te ne pare a tutti questi ragazzi che oggi fanno del bene a tante Ognus in questa serata più grande Direi che un abbraccio a quello del sindaco che ha una conseguenza dopo l'evento di oggi